Ciao ragazzi bentornati nel mio canale, si sono sempre io stavolta ho deciso di fare un video per come non rimanere incinta cioè in realtà io avrei voluto fare prima questo video e poi il precedente però ho deciso di lasciare le cose più complicate per ultime anche perché quello è facile però è difficile diciamo evitare una gravidanza se non si conoscono determinate cose che che purtroppo come posso dirlo cioè se non si conoscono determinate cose è facile rimanere incinte ad esempio ad esempio vi dico subito che il coito interrotto non è un metodo contraccettivo quindi se lo state usando vi consiglio di non di non usarlo ma di usare un vero metodo contraccettivo poi vi consiglio di andare da un medico molto possibilmente da un ginecologo per vedere il metodo contraccettivo più adatto a voi cioè nel senso che in realtà nessun metodo è mai sicuro al 100% addirittura ci sono delle coppie che hanno avuto un bambino eppure lui usava il profilattico e lei la pillola anticoncezionale e però è successo che qualcosa non ha funzionato e lei è rimasta incinta perché purtroppo l'unico metodo veramente sicuro per non avere i figli è proprio quello di non avere rapporti questo è scontato poi evitate di fare di avere questi rapporti nei giorni diciamo di alta fertilità quindi vi consiglio di avere rapporti quando vi dovrebbe tornare il ciclo e subito dopo e basta cosa più importante usate un metodo contraccettivo cioè quella è proprio la cosa più importante e soprattutto voi donne se siete donne siate egoiste perché purtroppo noi donne ci abbiamo un... come posso spiegarlo? ci abbiamo... diciamo che gli uomini hanno il coltello dalla parte del manico perché? perché se per caso succede che una coppia ha un bambino purtroppo la maggior parte dei guai capita a noi donne gli uomini praticamente nulla quindi se non state cercando una gravidanza cercate di essere egoiste se il vostro lui è allergico al lattice troverete un'altra strada a prendere dei profilatici senza lattice o magari vedere altre cose però sappiate che la cosa più importante secondo me è essere un pochettino egoiste anche perché il profilattico non piace a nessuno bene ragazzi per oggi è tutto e praticamente io spero con tutto il cuore che sia l'ultimo argomento che faccio riguardo ai figli anche perché non è un argomento proprio come faccio a dirlo? sentito cioè mi interessa però ne ho fatti fin troppi ecco vorrei fare anche altri argomenti tipo tipo in cui vi parlo della pittura vi parlo che ne so dei viaggi vi parlo della danza della ginnastica magari vi parlo di conversazioni trovate a caso conversazioni divertenti tipo ne avevo pure fatto un video tempo fa però era più generico magari faccio un video tipo con un tema proprio principale non lo so dite voi per oggi è tutto quindi vi saluto ragazzi e ci rivediamo al prossimo video spero che questo prossimo video sarà proprio domani perché io voglio registrare 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 quindi ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti